Si è celebrato questa mattina all'aeroporto di Malpensa il capodanno cinese con la caratteristica Danza del Leone, di auspicio per la felicità e la prosperità di tutti nell'anno appena iniziato. Un evento folcloristico per i passeggeri pronti ad imbarcarsi e per i loro accompagnatori, che si sono piacevolmente trovati immersi in un'atmosfera festosa alla presenza del Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano e dei rappresentanti delle compagnie aeree che operano su Malpensa, Catai Pacific Airways e Air China, oltre che del Chief Operating Officer di SEA, Giulio Demetrio. Milano-Malpensa oggi è collegata con tre delle principali destinazioni cinesi, Shanghai e Pechino tramite Air China e Hong Kong tramite Catai Pacific Airways. Nel 2013 i passeggeri che hanno scelto di volare da o per Milano da queste città sono stati circa 570.000. Per supportare l'incremento dei flussi di viaggiatori cinesi e per facilitarne la permanenza in aeroporto, SEA ha recentemente lanciato il progetto Chinese Friendly Airport, che rende gli aeroporti di Milano più attrattivi e confortevoli per la clientela cinese, grazie ad una serie di iniziative volte a migliorarne nell'esperienza di viaggio.